Tonino Scala lancia l'allarme legalità a Pompei. In queste ultime settimane sono successe troppe cose che mi preoccupano. Ha denunciato il capogruppo regionale della sinistra in una lettera inviata al prefetto di Napoli, Alessandro Panza, per chiedere un forte impegno in favore del ripristino della legalità. Da settimane, si legge nella missiva, Pompei è teatro di fatti inquietanti a danno di candidati a sindaco, consiglieri comunali e assessori. Dall'incendio della porta del comitato elettorale di Messigno del candidato genovese, alla bomba nel giardino dell'assessore Rosapio, fino alle minacce al candidato del consiglio provinciale Zito e all'incendio della macchina del consigliere comunale Uliano. Un'escalation di violenza che è continuata con gli atti vandalici all'indirizzo di un noto locale, ubicato proprio sotto lo studio dove lavora il sindaco e l'invio di tre proiettili ad un consigliere comunale. Episodi che, come denunciato da Scala, non si sono arrestati col finire della campagna elettorale e che, oltre a comportare diversi problemi legati alla sicurezza e all'incolumità delle persone, minano alla base importanti settori del sistema economico e delegittimano le istituzioni. Scala chiede dunque l'intervento del prefetto per il ripristino della legalità. Considerato che il comprensorio sarà oggetto nei prossimi mesi di ingenti investimenti, e il capogruppo della sinistra chiede che il livello di attenzione su Pompei venga elevato per cancellare ogni dubbio su presunte infiltrazioni della criminalità locale sul territorio.